Geolocalizzazione e tecnologie affini, quali sono le opportunità che sono offerte oggi sia per i cittadini sia per le imprese ma anche per le istituzioni del territorio? Ci sono tecnologie che si sono evolute nel tempo, che hanno avuto la possibilità di integrarsi in maniera molto semplificata e messe a disposizione proprio delle istituzioni e dei cittadini per poter portare dei vantaggi, dei vantaggi effettivi per chi le utilizza. Banalmente nel contesto dell'agricoltura possiamo decidere tramite le analisi satellitari quando irrigare, quanto irrigare, quando fertilizzare, quanto fertilizzare e quando potare e quindi migliorare il prodotto, migliorare la qualità del prodotto, migliorare la produttività delle aziende agricole. Nel contesto urbano e per i cittadini possiamo offrire tutta una serie di servizi che semplificano e aiutano la vita stessa dei cittadini, monitorando il verde pubblico, gestendolo nel miglior modo e quindi rendendo al cittadino un servizio indiretto attraverso queste tecnologie. Ed inoltre adesso stiamo lavorando su un progetto che riguarda la geotracciabilità alimentare e quindi un servizio che va ad uso esclusivo dei cittadini per tutelarli a fronte anche degli ultimi avvenimenti successi nell'acquisto e nella certificazione del prodotto. Ecco, un cittadino o un'istituzione come può attivare un servizio tecnologico di questo tipo? Sono delle applicazioni? Sono altri tipi di programmi? Allora, noi operiamo all'interno del parco scientifico e tecnologico di Udine, siamo molto propensi alle nuove tecnologie ed è per questo che abbiamo deciso di passare completamente a piattaforme cloud, nella cosiddetta nuvola. In questo modo l'ente o il cittadino avrà la possibilità di attivare un servizio tramite i sistemi mobile che oggi sono quelli che devono essere implementati sul territorio. Quindi l'utilizzo e l'accesso ai servizi tramite telefonino, tablet e web e null'altro. Quindi nessuna installazione di software, applicativi che richiedono poi ovviamente hardware specifico o quant'altro. In Friuli Venezia Giulia, secondo lei a che livello siamo di sensibilità riguardo a questo tipo di tecnologia e secondo lei se ci sono delle esperienze virtuose che si sente di citare a tal proposito? Vengo proprio da una testimonianza diretta da Bruxelles dove si è parlato proprio dell'evoluzione tecnologica a livello nazionale. Su 29 paesi siamo al primo posto per detenzione di tablet e smartphone e siamo al 27esimo posto per l'uso di servizi associati a questi strumenti. Quindi dobbiamo fare molti passi avanti. Ma abbiamo delle grosse potenzialità in quanto abbiamo un pool di imprese che operano in questi settori che hanno grande capacità e soprattutto i costi riferiti alla tecnologia oramai sono assolutamente accessibili da chiunque. Quindi possiamo implementarli ma dobbiamo lavorare molto sulla formazione delle persone per far comprendere a loro che i vantaggi ci sono nell'utilizzo di queste tecnologie. Che sono per la maggior parte gratuite o con investimenti ridotti o abbordabili per un cittadino? L'idea è quella di offrire ai cittadini dei servizi gratuiti che ovviamente poi devono essere sostenuti a livello di costo dagli enti o dalle aziende private o pubbliche che ovviamente devono offrire dei servizi ai cittadini in quel senso. I cittadini non devono essere coinvolti dal punto di vista economico, devono essere semplicemente avvisati che con il loro telefonino tablet possono accedere ad un servizio.